ciao allora oggi mi sono ripresa da qualche giorno di influenza forte che ho avuto ho ancora qualche piccolo strascico però va bene così insomma poi passerà questo video è un video di ringraziamento a yuki perché non so se alcuni di voi hanno visto vinto il suo primo giveaway e veramente sono stata davvero felice per due cose uno per aver vinto finalmente qualcosa perché veramente ragazze io non vincevo neanche quando mio nonno mi dava mille lire per comprare un gratta e vince ai tempi io tornavo sempre con il biglietto grattato che non avevo vinto nulla mentre mio fratello vinceva sempre qualcosa e quindi insomma è sempre stato frustrante per me tentare di vincere un qualcosa che sapevo già che a priori non avrei mai vinto invece la fortuna questa volta è stata dalla mia parte e ho vinto finalmente il un premio ed è stato quello di yuki che aveva indetto per i suoi per il suo primo anno di del canale oltretutto veramente bello e e niente insomma sono senza parole ringrazio lui per aver comunque realizzato qualcosa di così bello per chiunque avesse vinto il suo concorso e lo ringrazio perché comunque una persona davvero splendida e ci sta insegnando veramente tantissime cose almeno a me personalmente ma penso di poter parlare per anche per voi ed è così allora torniamo noi bandole ciance vi mostro quello che ho ricevuto allora sono stata felicissima di aprire il pacchetto di trovare questa bellissima bustina è stupenda ragazze bellissima e vabbè c'era dentro un bigliettino che tengo per me e poi vabbè voi l'avete visto però lo mostro ecco il bracciale che ho vinto il bracciale fatto con la micro cmail adesso io poi sono stata felicissima perché è vero che creo anche un sacco di cose però non faccio nulla con la cmail perché è una tecnica che mi piace moltissimo ma per me non non fa cioè non fa per me non riesco a star lì con tutta quella pazienza che ci vuole per creare sia gli annellini che poi assemblare il tutto e devo dire che è stupendo adesso purtroppo è sera e non si riesce a vedere la luminosità perché gli annellini che ha realizzato uno per uno yuki sono fatte se non erro con un filo in argento 925 quindi ragazze è bellissimo è luminosissimo insomma io sono veramente veramente felice ho vinto qualcosa di unico adesso io sto girando sempre con con il telefono quindi non ho la il trepiedi per appoggiarlo e la misura yuki è perfetta va benissimo e niente io sono veramente felice di aver vinto un premio del genere e ringrazio ancora ma davvero con tutto il mio cuore a yuki per aver comunque messo in paglio qualcosa di così spettacolare poi ho vinto io però poteva vincere chiunque è stato veramente una cosa molto molto generosa da parte sua e poi appoggio un attimo il mio bellissimo bracciale vi mostro quello che gentilmente mi ha donato mi ha regalato un dado ma per chi ha visto il video del giveaway questo è il dato con cui lui uno dei due dadi con cui lui ha realizzato l'estrazione quindi con il quale grazie al quale ho vinto anche io insomma questo se non sbaglio quello che grazie al quale ho vinto non la pagina perché la pagina erano due i commento quindi da uno a dieci adesso io non ricordo più che numero ero però è grazie a questo dado yuki ti ringrazio davvero e questo qua lo utilizzerò anch'io per il mio prossimo concorso per estrarre il numero del commento della pagina che magari faccio le estrazioni tramite random.com e poi dopo aver visto la pagina vedrò quali dei commenti visibili che se non sbaglio sono sempre dieci ha vinto e quindi insomma io ti ringrazio ti ringrazio davvero yuki con tutto il cuore e scusami per il ritardo con cui faccio questo video però l'influenza la febbre ha avuto la meglio su di me se no credimi l'avrei realizzato subito grazie 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 io questo qua lo indosso tutti i giorni e niente ti mando un bacio vi mando anche un bacio anche a voi ciao alla prossima